Io sono partito dalle esperienze di riattraversamento di quelle che erano, da un lato neavano guardie storiche, dall'altro certi modelli della tradizione del teatro napoletano, della tradizione alta e man mano questo tipo di autodidattismo, di autoscuola che ho fatto ha portato a spogliare molti elementi, i più evidenti della rappresentazione, per far sì che la rappresentazione diventasse un'immagine interiore, un'immagine interna, quasi una rappresentazione di ciò che sta dietro le cose, di ciò che è dentro le cose e quindi assolutamente mi sono trovato davanti due categorie fondamentali, cioè quella del tempo e quella dello spazio, che sono due categorie fondamentali secondo me dell'esistenza, cioè dell'uomo. Il silenzio è ciò che scandisce in maniera più eloquente molte volte il tempo ed è ciò che ti fa percepire in maniera più profonda lo spazio. Il silenzio in questo caso è intenso come assenza di parole, in certo qual modo questo discorso è stato sempre equivocato, cioè il mio teatro non è stato ancora capito. Questa essenzialità, questa scarnificazione dell'esigenza di appropriarsi qualcosa d'altro che forse non è nemmeno nominabile e non è prendibile e che di fatto agisce su queste due categorie, la categoria del tempo e la categoria dello spazio. Non è più il tempo delle parole a scandire una rappresentazione, ma è un altro tempo e non è più uno spazio tra le azioni a scandire il tempo e la rappresentazione, ma è uno spazio mentale, è uno spazio interiore, quindi è uno spazio che continuamente si scompaggina, che va al buio, ritorna alla luce. Questo nemmeno è stato mai capito, hanno voluto trovare i nessi drammaturgici, ragionando come se fosse un teatro di parola. Non è possibile trovare dei nessi se si pensa che queste persone non parlano perché non vogliono parlare o perché non comunicano, molte volte diciamo che comunicabili è vero, non si parla, è un momento in cui non si parla, è un'ora in cui non si parla, non è che non altro che questo, non è che non parlano mai. Poi ci sono sempre dei gesti, cose, una sorta di linguaggio inventato, più spazio, più spazio, più spazio. la 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 oh Aparam, Aparam, Aparam! Oh ma che parlaam a, come andava! Malocca, noc! Nocce! Malocca, nocce! Scころ pesticides! Grazie a tutti.